Napoli per un momento di solitarietà a favore dei bambini Unicef, ancora una volta protagonista sulla scena il gruppo TSM-SRL e siamo qui con la dottoressa Alexandra Borzea, direttore operativo estero di questo gruppo che oggi non ha voluto far mancare la vicinanza al futuro della nostra nazione a questi bambini così bisognosi. Grazie per essere qui, essere presente qui è in questo momento importante per tutti quanti quindi voglio dire che quello che stiamo facendo non ha prezzo perché ovviamente stare vicino ai bisognosi è una cosa importante oggi e poi è una cosa anche di etica quindi noi come TSM, come azienda internazionale ci stiamo provando da un bel po' a fare tutto di più per il sociale e dare una mano a tutti i bisognosi. Oggi stiamo qui per dare una mano ai bambini che veramente hanno bisogno di questa cosa quindi ovviamente noi come azienda internazionale stiamo preparati per fare anche questi progressi a livello sociale. Ecco voi abbiamo detto direttore operativo, siete non solo in Italia, in quante parti dell'Europa e del mondo operate? Diciamo che siamo parte di tutta l'Europa, siamo sia in tante parti della Francia, in tanti posti, Repubblica Ceca, Amsterdam, dappertutto diciamo e stiamo curando la pratica di IVECO e non solo questo, in tutta l'Europa anche all'estero, fuori dall'Europa. Non perdete la speranza che quello che ci allontana ci unisce in un giorno molto più forte di prima. Grazie a tutti.